La prima cosa di Cimara Andò Ci dobbiamo far scurire La prima cosa di Cimara La prima cosa di Cimara Che stronzata Che stronzata Che stronzata Denominato Cimara perché è l'unico costruito su due piani Con la tecnica secco Andiamo a vedere almeno com'è dentro Come spaga Sì 1,50 euro Vabbè Ci accontentiamo di vederlo da fuori Viste che ci hanno fregato 4,50 euro per il parcheggio La capanna di Angela Gray Continuiamo il nostro giro Dove vai a ballare? Vieni a ballare Grazie 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 Bello Ciao Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E' qui ragazzi Mi fa la foto Antonio E' in questi momenti E' in questi momenti c'è Antonio che viene tra queste sedi Abbiamo un cuore, una croce Quando dove si stoppa? Un wreck E' in questo momento E' in questo momento Sull'Adriatico, queste sono le donzelle sull'Adriatico Il giorno se ne scappa dalle donzelle dell'Adriatico Poizia sono tutte scate le manchere Il posto dell'Adriato. Il posto dell'Adriato.